di far male agli avversari, nel secondo tempo la gestione della partita non mi è piaciuta in generale ma era una cosa che non avrei voluto, purtroppo il campo il secondo tempo ha detto che loro sono stati meglio di noi perché abbiamo solo il tempo e il desiderio e la possibilità di andare a rimediare questa sconfitta con il ritorno a Roma però spiegarselo vi assicuro che non è facile